E ci spostiamo ad Alcamo, festeggiamenti in onore di Maria Santissima dei Miracoli, ormai indirittura d'arrivo. L'assessore alla Giunta Sur di Lorella Di Giovanni, intervenendo alle nostre telecamere, ci ha fornito tutti i dettagli rispetto a quello che sarà un ricco cartellone di appuntamenti culturali. L'ascoltiamo. Ci avviciniamo veramente a questa festa della nostra patrona e lo facciamo con rinnovata fiducia in Maria Santissima dei Miracoli, ma soprattutto con uno spirito nuovo, uno spirito di ritrovare le nostre abitudini e le nostre tradizioni. Abbiamo voluto organizzare un programma pensando fortemente che le regole di assembramento possano chiaramente darci la possibilità di lasciarci alle spalle questa pandemia. E proprio per questo abbiamo pensato e abbiamo realizzato un palinsesto nel solco delle nostre migliori tradizioni. Il ritorno della banda musicale nella nostra città l'anno scorso non ha potuto esibirsi, conclusione della festa, un piccolo e brevissimo omaggio pirotecnico alla Madonna, ma anche il ritorno del mercatino multietnico in Piazza della Repubblica. La città sarà illuminata dalle nostre tradizionali luminari, sarà vestita a festa. Molti eventi dedicati proprio alla nostra tradizione, al culto mariano e con non soltanto dei concerti in onore di Maria Santissima dei Miracoli, ma anche dei racconti, dei canti e dei filmati storici sulla nostra festa. Il ritorno dell'Opera dei Pupi, avremo le antiche atmosfere medievali al castello, ma abbiamo voluto quest'anno dedicare molti eventi alla nostra città. Riscoprire il nostro genius loci con un bellissimo documentario sulle bellezze di Alcamo e con un momento teatrale in cui importanti autori raccontano Alcamo. Una passeggiata per la città e per il Monte Bonifato sulle tracce di cielo d'Alcamo. Gli eventi dedicati ai nostri bambini ai più piccoli e poi avremo anche molte presentazioni di libri e in particolare avremo come ospite Stefania Auci, l'autrice della saga, della famosissima saga dei Florio. Lei converserà con il suo consulente storico e il nostro concittadino Francesco Melia. Avremo mostre, street art, ma avremo anche bellissime serate allietate dalle musiche degli ottoni animati. La norma anti-covid non ci consentono di realizzare quegli eventi in piazza con il cabaret, con la musica dal vivo. I nostri ottoni animati attraverseranno tutto il centro storico e terranno compagnia a noi tutti durante queste serate di festa.